E di chi sono questi politici? Di chi sono? Di tutti, di tutti, tranne noi, tranne noi! E tutti vanno a cena con tutti, buzzicamente insieme, con Poletti un pochino che si è abbuzzicato nel frattempo e allora che cosa succede? E allora abbiamo questi partiti, all'interno di questi partiti c'è sempre l'omesso controllo, sempre, costantemente, non è possibile, non è veramente possibile e allora noi vogliamo sapere alcune cose, vorremmo sapere per esempio se questa corte è esattamente quello che noi non vogliamo, perché non vogliamo questo tipo di situazione. Noi in questo momento siamo una rivoluzione culturale, noi siamo quelli che questo Paese stanno cercando di cambiarlo, noi siamo una moltitudine di cittadini informati e inesorabili, forse noi siamo la vera rivoluzione a 5 stelle. Grazie. Noi in questo momento siamo la vera rivoluzione, noi siamo la vera rivoluzione, noi siamo la vera rivoluzione, noi siamo la vera rivoluzione.